Oggi la presentazione delle candidature per le prossime elezioni, 6 aspiranti sindaco a Verbagna per 17 liste e quasi 500 consiglieri. Sono tanti i comuni che il prossimo 8 e 9 giugno rinnoveranno il sindaco e consiglio, la mappa nel nostro territorio. Si finge cartomante ed essorce 10.000 euro a una donna di Domodossola, 22enne del napoletano, denunciato. A grano di Omenia raccolta firme per lo spostamento dell'antenna posizionata in località Pescone. Nella nuova puntata di Laghi e Monti vi raccontiamo la storia e i principali service del Lions Club di Domodossola. Ultima e decisiva giornata nel campionato di promozione, sogni e paure tra playoff e playout invece nelle altre categorie. Buona serata e ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizia. Questa edizione del nostro telegiornale in primo piano La Politica perché a mezzogiorno di oggi sono scaduti i termini per la presentazione delle liste alle prossime elezioni comunali, regionali ed europee dell'8 e 9 giugno. Ora sarà la Commissione elettorale a vagliare la regolarità dei documenti presentati. Intanto a Verbagna la corsa a sindaco si profila a 6 con 17 liste presentate e per un totale di poco meno di 500 aspiranti consiglieri comunali. 6 candidati a sindaco, 17 liste, 485 candidati al Consiglio Comunale sono i numeri delle elezioni a sindaco del Comune di Verbagna. Gli elettori chiamati alle urne sono circa 26.600. Ora chiaramente spetterà alla Commissione elettorale validare tutti i documenti presentati. In ordine alfabetico ad aspirare alla poltrona di sindaco sono Gian Domenico Albertella, Riccardo Brezza, Paolo Caruso, Mirella Cristina, Michael Immovilli e Patrick Rabaini. Per Albertella le liste sono due, Verbagna Futura e Leali con Verbagna. 6 per Brezza, PD, Movimento 5 Stelle, Verbagna si prende cura, Verbagna Civica Volt, Europa Verde Ambiente Verbagna e una Verbagna a sinistra. Per Paolo Caruso c'è la lista Insieme Liberi. Per Cristina corrono Forza Italia con Noi Moderati, Lega e Fratelli d'Italia. Immovilli conta su due liste, Libertà a Verbagna e Immovilli sindaco per Verbagna. Patrick Rabaini conta su tre liste, Marchionini per Rabaini, Centro Riformista Italia Viva, Azione Più Europa, Alleanza Civica. Molti anche piccoli comuni che dovranno scegliere il nuovo sindaco. Sono ben 54 nel VCO, 56 in provincia di Novara. Cominciamo dalla mappa elettorale in Ostola dove si vota in 25 comuni. Nella metà c'è un solo candidato. In Ostola e comuni al voto sono 25, di questi 13 hanno un solo candidato a sindaco. Si tratta dei comuni di Baceno dove si ricandida il sindaco uscente Andrea Vicini. A Craveggia c'è Paolo Giovanola, a Masera Norma Bianchi. Ormavasso vede in lizza lo storico sindaco Filippo Cigala Fulgosi. A piedi Mulera si ripresenta Alessandro Lana, anche a Ressi ricandida il primo cittadino uscente. Massimo Patritti così come a Toceno Tiziano Ferraris. Corsa in solitaria pure a Montescheno per Dario Ricchi, a Varzo, per Bruno Stefanetti, a Trontano, per Renzo Viscardi, a Villette. Ci riprova Monica Balassi. Volti nuovi a Mergozzo dove il candidato a sindaco è Massimiliano Stoto e avanzone con San Carlo con Massimo Felisati. In tutti questi casi l'unico scoglio da superare per l'elezione del sindaco è il quorum strutturale imposto dalla legge per la validità del voto. Infatti nei comuni con meno di 15.000 abitanti occorre che il numero dei votanti si attesti alla soglia del 40%. Ad Antona Schieranco sarà sfida a due tra Franco Borsotti e Cristian Pirazzi, due competitor pure ad Anzola, dove a sfidare Andrea Melloni, attuale primo cittadino, sarà Alberto Boggio. A Bagnanzino, in Lizza, Pierfranco Bonfadini e Roberta Ricco. A Ceppo Morelli la sfida sarà tra Giovanni Consagra e Tania Bettineschi. Due gli aspiranti sindaci a Crodo con Pasquale Folchi e Marilena Pansiera, due papabili. Si contano anche a Malesco. A sfidare Enrico Barbazza sarà Serena Pilone. A Montecrestese, in Polo, oltre al sindaco uscente Renato Punchia, c'è anche Valerio Finoli. Anche Pallanzino propone una coppia di sfidanti, Gian Paolo Blardone e Simone Cantova sfida al femminile. Invece a Pieve Vergonte con Maria Grazia Medali e Monica Bacchetta. A premia Paolo Barbetta sfida Fausto Braito. A Santa Maria Maggiore, oltre allo storico candidato sindaco Claudio Cottini, in corsa anche Massimo Castelnuovo. A Vogonia, unico in comune al voto anzitempo e commissariato, gli elettori potranno scegliere tra Fausto Dotta e Attilio Baronzio. 16 comuni al voto nel Verbano, anche qui per molti sarà una corsa in solitaria. Scopriamo chi sono gli aspiranti sindaci. Ad Arezzano si ripropone il sindaco uscente Enrico Calderoni, unico candidato così come ad Aurano, dove Davide Molinari si candida per il quarto mandato. A Be sono due candidati, il primo cittadino uscente Marco Vietti e Paola Bazzoni. A Cambiasca sarà corsa tre, l'uscente Claudio Liera, Claudio Campagnoli e Jimmy Parrella. A Cannero Riviera, Federico Carmine si rimette in gioco ed è l'unico candidato. A Cannobbio, il sindaco uscente Gian Maria Minazzi sfida Dario Ferrari. A Caprezzo, candidato unico, è Massimo Bocci. A Giffa si ricandida Matteo Lanino, sindaco uscente che si confronterà con Pier Geril e Sergio Colla. A Gurro sono due i candidati, Luigi Walter Costantini e Giuseppe Sterza. A Intragna si ricandida Tiziano Morandi. A Miazzina si ripropone la sindaca uscente Monica Della Vedova, così come a Gebbio dove si ricandida Alessio Ferrari. A Premeno Umberto Marroni, sindaco uscente, si ripresenta agli elettori. L'altro candidato è Silvio Zanna. A San Bernardino Verbano sono tre i candidati, Giorgio Martoccia, Maria Rosa Loiacono e Andrea Lopizzo. Valle Cannobina vedrà la sfida tra Luigi Spadone e Vittorio Polloli. Infine a Vignone, il sindaco uscente Giacomo Archetti si confronterà con Sergio Manni. E ora il punto della situazione nei comuni del Cusio, chiamati alle urne. Sono nove i comuni del Cusio e nella provincia del VCO, che andranno al voto i prossimi 8 e 9 giugno per eleggere sindaci e consigli comunali. Nessuna sorpresa, nessuna lista civetta. Domani il classico sorteggio per l'ordine sulle schede, dopo il via libera delle commissioni elettorali. Cominciamo da Arola, dove c'è un solo candidato, Livio Testone, con la lista Progetti e Passione. Livio, sindaco Arola. A Casale Cortecerro si sfideranno la lista Insieme per Casale, con candidato sindaco Gabriele Falcioni, e la lista L'Alternativa per Casale, che ha scelto Fabrizia Maggiola. Due candidati sindaco a Germanio sono Fabrizio Vittoni, sindaco uscente e sostenuto da tutti per Germanio, e l'attuale primo cittadino di Vastrona, Luca Capotosti, con Germanio Io ci credo. Uno dei duelli più attesi è quello di Gravellona, con Gianni Morandi, con la lista Insieme per Gravellona, a caccia del terzo mandato consecutivo. E il vicepresidente della provincia Rino Porini, con la lista Impegno Civico per Gravellona, a sfidarlo. All'Oreglia c'è Paolo Marchesa Grandi, con la lista Camminiamo Insieme, mentre a Madonna del Sasso, oltre al primo cittadino Ezio Barbetta, con la lista Unione Democratica, si presenta Ferdinando Grosso Dettonando, con la lista Idee e Progetti Grosso Sindaco. Renzo Albertini, sindaco uscente, è l'unico candidato a Massiola, con il suo gruppo Uniti per Massiola, mentre a Nonio, in due, concorrono per la carica di sindaco. Piero Ernesto Minazzi, attuale primo cittadino, candidato della lista per Nonio, Brolo, Oira e Mauro Covini, con Progetto Comune. A Quarna Sopra, l'unica lista tra lezione e futuro, propone Giuliana Pettinaroli. A Vastrona, saranno infine in due, a sottoporsi al giudizio degli elettori per la lista Insieme per la Vastrona, il candidato sindaco è Franco Giuriato per la lista Vivere la Montagna, il candidato invece è Ivan Reinoldi. Non si vota solo ad Arona, ma anche in altri otto comuni nell'Aronese. Sentiamo quali sono e chi sono i candidati sindaci. Ad Arona gli elettori per le amministrative troveranno sulla scheda tre nomi. Alberto Gusmeroli per la lista per Arona Federico Monti, Monti sindaco Gianluca Ubertini, impronta civica A Castelletto Ticino 5 liste Massimo Stilo, sindaco uscente, per Castelletto Giorgio Pierucci, Castelletto da vivere Matteo Besozzi, progetto Castelletto Michele Giovannetti, bene comune Paolo Sibiglia, aria nuova Castelletto A Meina, tre candidati Fabrizio Barbieri, sindaco uscente Lista, valore aggiunto 3.0, Barbieri sindaco Giancarlo Blangiardo, insieme per rinascere Letizia Moalli, progetto Meina A Massino Visconti, unico candidato Vilmo Pescara Nel futuro per Massino il nome della lista Due liste a Colazza Con Corrado Riboni, sindaco uscente Vivere Colazza E Mauriliano Castiglioni Lista presentata all'ultimo minuto Una sola a Paruzzaro, con Matteo Mora Insieme per Paruzzaro Due liste ad Oleggio Castello Marco Cairo, sindaco uscente Insieme per il futuro il nome della lista Gianluca Pagiaro, aria nuova ad hoc A Pisano due liste Pier Giulio Lesina, impegnarsi è un dovere Gianluigi Cristina, insieme per Pisano A Gattico tre liste Si ripresenta Federico Casaccio In comune il nome della lista Alessia Bacchetta, impegno comune Alessia Bacchetta, sindaco Giovanni Crevacore, Gattico Veruno Condivisione e sviluppo Gianni Crevacore, sindaco A Gignese due liste che non erano state accettate lo scorso anno Vincenzo Titone, G9 in comune Massimo Pedrani, Pedrani sindaco E ora la mappa elettorale Nel Comune del Novarese Al confine con il VCO A Gozzano saranno due i candidati sindaco Che si sfideranno alle urne l'8 e il 9 giugno Si tratta di Marisa Arrondini E di Carla Biscuola Due candidati anche a Orta San Giulio Elisabetta Tromellini e il sindaco uscente Giorgio Angeleri Mentre sia a Pella sia a Pogno È stata presentata una sola lista A Pella il candidato sindaco sarà Alessandro Soldà A Pogno l'uscente Maria Eliana Paracchini A San Maurizio Doppaglio Sfida tra il sindaco uscente Agostino Fortis e Maurizio Ronchi A Dameno i candidati sindaco Sono invece Daniele Panza e Giulio Ernesti Corsa due anche a Darmeno Con il sindaco uscente Mara Maria Lavarini e Pietro Fortis Un solo candidato infine a Briga Novarese Si tratta ancora una volta del sindaco uscente Chiara Barberi E sono state tutte accettate le 13 liste provinciali per Torino Presentate in vista delle prossime elezioni regionali del Piemonte Lo ha comunicato la Corte d'Appello ai delegati La valutazione sui cosiddetti listini Che accompagnano le candidature alla Presidenza della Regione Non è ancora stata completata Gli esiti comprensivi anche dello screening Che viene fatto nelle altre circoscrizioni piemontesi Verranno comunicati lunedì Al momento i candidati alla Presidenza della Regione Restano 5 Il Presidente uscente Alberto Cirio per il centro-destra Gianna Pentenero per il centro-sinistra Sara Di Sabato del Movimento 5 Stelle Alberto Costanzo di Libertà E Francesca Frediani di Piemonte Popolare E chiudiamo questa ampia pagina politica E passiamo alla cronaca Approfittando di un momento di fragilità Di una donna di domodossola Si finge cartomante E su TikTok le estorce 10.000 euro Denunciato dai carabinieri Un 22enne campano Fingendosi cartomante Su TikTok ha estorto una donna di domodossola 10.000 euro E' stata la vittima a sporgere denuncia Alla locale stazione dei carabinieri La donna ha raccontato di aver attraversato Un periodo di stress per problemi familiari Di aver cercato aiuto attraverso il social network Rivolgendosi a un cartomante Inizialmente i contatti sono stati brevi e superficiali E sempre attraverso la piattaforma Ma poi si sono fatti più stretti E il cartomante è riuscito ad avere Il numero di telefono della donna Conquistandosi la sua fiducia Da quel momento è riuscito anche a ottenere Tramite conversazioni su WhatsApp Sempre più informazioni sulla donna e la sua famiglia A un certo punto il suo comportamento è cambiato Ha infatti iniziato a minacciarla Di divulgare gli screenshot Delle loro conversazioni sui social Se non avesse effettuato dei versamenti sul suo conto Intimidita dalle minacce La vittima ha effettuato diversi bonifici Per un totale di 10.000 euro circa Quando non è stata più in grado di pagare Ha deciso di rivolgersi ai carabinieri Che hanno avviato le indagini Tramite delle transizioni bancarie E tabulati telefonici sono riusciti a rintracciare L'intestatario del conto corrente È un 22enne residente nel napoletano Già noto per simili reati Che è stato quindi denunciato per estorsione Intervento dei vigili del fuoco di Verbagna La scorsa notte Intorno alle 3 per un incidente Sulla statale 33 del Sempione Tra Stresa e Belgirate Un'automobilista per cause ancora da stabilire Ha perso il controllo Ed è uscito di strada Finendo in un canneto in riva al lago I vigili del fuoco Con il supporto dell'autogru Hanno recuperato l'auto E l'hanno posizionata in sicurezza Sulla strada Fortunatamente il conducente è risultato illeso Raccolta firme avviata dai residenti Del quartiere di Agrano a Omegna Per chiedere lo spostamento Di un'antenna per telefonia Il quartiere di Agrano Tutta la comunità si sta mobilitando Per dire no All'installazione dell'antenna Per telefonia mobile In località Pescone È cominciata una raccolta firme Qual è il vostro obiettivo E cosa chiedete all'amministrazione? Allora diciamo che noi siamo venuti a conoscenza Di questa costruzione di questa antenna Inizio febbraio Praticamente nel momento in cui Hanno iniziato a costruirla Il nostro obiettivo qual è? Far spostare l'antenna Perché riteniamo che Pescone Sia una località turistica Con un valore paesaggistico Estremamente valido E per questa ragione ci chiediamo Con tutti i chilometri Che ci sono a disposizione In montagna E con tutti i prati che abbiamo a disposizione Il perché La scelta è di aver messo lì Quest'antenna Ci sono altre compagnie Telefoniche Che hanno anche loro Installato antenna da grano Ma sono ben nascoste E in località appunto Più riservate Quindi ci appelliamo a Vodafone Perché facciano spostare Quest'antenna immediatamente E chiediamo anche l'aiuto del comune Per avviare una mediazione immediata Con Vodafone Con la risposta da parte di Agranesi È stata subito importante Già raccolte in un giorno Più di cento firme Le porterete in comune A quel punto vi aspettate Che vi sostenga l'amministrazione Esatto Noi siamo convinti Che l'amministrazione comunale Ci sosterrà Perché basta andare a vedere In località Pescone Questo palo È assolutamente Non idoneo in quella località Anche perché È fondamentale Per voi Preservare una località Che come dicevi giustamente prima È molto frequentata Esatto Diciamo che ogni settimana Ci sono fiumi e fiumi di persone Che comunque si recano Alla famosa cascata E vederli passare davanti A questa antenna Che guardano questo palo Insomma non è l'ideale Per cui ci aspettiamo Che venga spostato Quindi voi non dite di no All'antenna in se stessa Ma chiedete che venga spostata Diciamo che la digitalizzazione Dell'Italia Purtroppo O per fortuna È un processo Che è già iniziato da tempo Per cui sarebbe impossibile Dire di no O opporsi La cosa che chiediamo È con tutto lo spazio Che c'è a disposizione Perché è in questa località Così a vista Ecco E ora la nostra programmazione Ospite del Sasso Nello Stagno Questa settimana È stata Mara Ardizio Neopresidente Delle Acli Del Piemonte Prima donna A ricoprire Questo ruolo Nella nostra regione Quest'anno Ricorrono Gli 80 anni Di fondazione Dell'Associazione Cristiana Dei Lavoratori Italiani La trasmissione torna in replica Domenica alle 14 Intanto uno stralcio L'ospite di questa settimana Del Sasso Nello Stagno È stata Mara Ardizio Che dal 26 febbraio scorso È la prima donna Presidente regionale Delle Acli Associazione Cristiana Lavoratori Italiani Del Piemonte Presidente Ardizio Il fatto che lei Sia la prima donna Presidente regionale Delle Acli Mi porta a chiederle Qual è il ruolo E la presenza Delle donne Delle Acli Sì Allora Diciamo che Nelle Acli Regionali del Piemonte Le donne Hanno sempre avuto Un ruolo Importante Perché Siamo sempre state Nelle presidenze Nel Consiglio Regionale Diciamo che per me Oltre che Un onere È un grande onore Essere la prima donna Delle Acli Del Piemonte Perché Spero si possa poi Aprire una strada Che possa continuare Su questo Ma a livello nazionale Le donne Acli Sono comunque presenti Un po' In tutti i servizi Che abbiamo Patronato CAF Sia a livello Operativo Ma anche a livello Dirigenziale Anche nella nostra Nelle nostre Acli nazionali C'è il coordinamento Donne Acli nazionale Che si occupa Un po' Dei problemi Delle donne Lavorativi Familiari Quindi la cura Delle persone E credo che sia Comunque un valore Aggiunto per le Acli Perché Le donne Sono comunque Importanti E hanno Anche una visione Diversa Rispetto Quella Degli uomini Su molti aspetti Perché appunto Prendendosi cura Anche della Famiglia Oltre che Ad avere il lavoro Sono multitasking E quindi Credo che La donna Nelle Acli Debba Avere E ha Comunque Un ruolo Importante Spero Visto che Al momento Tutti i presidenti Sono stati Uomini In un futuro Potrà esserci Una donna Presidente nazionale Grazie Grazie a lei Siamo ora Alle anticipazioni Della nuova puntata Di Laghi e Monti Dalla torretta Mediovale di Domodossola La nuova puntata Di Laghi e Monti Parleremo Del Lions Club Domese Il recupero E la ristrutturazione Della torretta E uno dei più Importanti service Realizzati dal club Di servizio In due momenti Diversi Insieme con La riqualificazione Del Sacro Monte Calvario Di Domodossola Spazio anche al centro storico Del capoluogo Solano Con il piano colore Sempre targato Lions E poi proprio La salita Il Calvario Sito Unesco Saremo in compagnia Del presidente Del sodalizio Federico Cavalli Del cerimoniere Enrico Verdi E dello storico Socio Antonio Pagani Padre del progetto Del Calvario Saranno loro A raccontarci I service Portati avanti Dal club Nel corso Della sua storia E' stato fondato Nel 1965 Il 16 di giugno Ricorderemo anche alcuni Dei soci fondatori We Serve Il motto lionistico Il Lions Domese Promuove un costante rapporto Con il territorio E con i suoi portavoce Per intercettarne i bisogni Così vi racconteremo Il progetto della prateria Destinato ai giovani disabili E condiviso Con diversi altri soggetti Vi mostreremo Il veicolo multiruolo Donato alla Croce Rossa Per interventi In case di calamità Vi illustreremo L'iniziativa Domo Itinera Che sfrutta le nuove tecnologie E la realtà aumentata Un'app gratuita Offerta ai turisti Che vogliono andare Alla scoperta Di Domodossola E dell'Ossola Domo Itinera Personalizza la proposta In base al tempo A disposizione La Ghiemonti Con la puntata dedicata Al Lions Club Di Domodossola Vi aspetta Come sempre La domenica Alle 13.30 Alle 19 E alle 23 E sul sito E sui canali social Di VCO Azzurra TV E domenica E domenica alle 20.30 L'ambiente stupendo Isola Borromeo E siamo ospiti Del ristorante Casa Bella E devo dire Che fino a questo momento Riccardo Ci andrà davvero bene Super nativo Ma anche la terrazza In cui ci siamo Piazzati Direi che non è male È tutto La location Il personale Cordiale Competente E il cibo Ottimo Più di così Cosa vuoi Quindi direi Che è una puntata Da non perdere Per conoscere Questo ristorante Casa Bella Isola Pescatori Un ristorante Che vi consiglio Vivamente Di visitare E di provare Riscopriamo anche Questi luoghi magici Del lago Maggiore Che magari Alcune volte Noi del luogo Abbiamo un po' Trascurato E ovviamente Questi piatti Esatto Quindi ricordo L'appuntamento Domenica 20.30 Vici Azzurra TV In replica Lunedì Alle 19 Mi raccomando Non mancate Siamo ora Alla pagina Sportiva Scopriamo Quello che Riservirà Il weekend Del calcio Dilettantistico Con l'ultima Giornata In promozione E sogni Speranze E paure Tra playoff E playout Nelle altre Categorie Domenica Decisiva Nella campionato Di promozione Al Galli Il Baveno Ha il terzo Matchpoint Alla squadra Di Sottini Basta un punto Con il Casale Che però Deve difendere Il fattore campo Ai playoff Dall'assalto Del Trino E per questo Deve vincere A tutti i costi Attesi più di 500 spettatori Sulle tribune Con 200 In arrivo Da Casale La Briga La Briga Raffronta Il Fiorenzuola Nell'andata Dello spareggio Dello spareggio Playout In serie D Playoff In prima categoria In prima categoria Invece un solo Turno playoff Quello che vedrà Di fronte La terza classificata La Union Novara Ed il piedimuliera Quarto Che vince Nella finalissima Sfidera Elettrecate Ora invece Il ciclismo Nel prossimo servizio Ripercorriamo La prima settimana Di Filippo Ganna Al Giro d'Italia 2024 E' stata La cronometro Corsa venerdì Da Foligno A Perugia 40 km Con gli ultimi 7 in dura Ascesa Il punto cardine Della prima settimana Del Giro d'Italia Di Filippo Ganna Una prova Contro il tempo Non del tutto Favorevole Al campione di Vignone Cronomen Puro Chiusa al secondo posto Dietro al grande Favorito E dominatore Del Giro Almeno ad oggi Tadej Pogacar Della UAE Team Emirates Nel tratto pianeggiante Ganna ha portato avanti Una grossa prova Seppur secondo lui Non perfetta All'ultimo rilevamento Aveva un bottino Di 47 secondi Di vantaggio Su Pogacar Vantaggio che però Lo sloveno Ha devastato in salita Vincendo 17 secondi Su Pippo E abbattendo Il resto Della compagnia Anche in classifica Per il resto La corsa di Ganna È stata una sequela Di applausi E di affetto Da parte Del grande pubblico Ad ogni partenza D'arrivo di tappa Per lui Tanti chilometri In testa al gruppo Nelle tappe di salita Chiuse con il suo passo Dopo aver terminato Il proprio compito Ma anche un successo Ma anche un successo di tappa Sfiorato in Liguria Lo scorso martedì Nella frazione Da Aquitermi Ad Andorra Dove da prima È entrato in un gruppetto Di fuggitivi Della prima ora Salvo poi Desistere E poi con un attacco In solitaria Sullo strappo A Desenzano Del Garda 31.2 chilometri Per specialisti puri E senza salita alcuna Ma anche tappe Di alta montagna Nelle quali Adoperarsi Per i capitani E questa era L'ultima notizia Il nostro telegiornale Termina qui Grazie per averci seguiti E buon proseguimento Di serata Con le nostre Trasmissioni